Magino che vediate tutti. Sì, è stato. Perfetto. Allora, diamo il via alle formalità. Intanto vi ringrazio tutti di essere qua per questa mezz'ora, tre quarti d'ora insieme. Speriamo di passare un po' di buon tempo in compagnia, parlando di una tematica che ci appassiona tutti quanti, in particolare DevOps. Per chi non mi conoscesse, io sono Michele, sono co-founder di Limeware, c'è anche il mio socio Luigi qui presente, oggi che ci tiene compagnia. Qui sono un po' di contatti dove potete trovare le nostre informazioni, i miei indirizzi email e così via, nel caso ci volessimo tenere in contatto o andare avanti con collaborazioni. Di nuovo l'avviso che la registrazione è in corso, come già fatto, però vorrei prendere l'occasione, chi mi conosce lo sa, quando faccio degli eventi, soprattutto a numero chiuso, mi piace far parlare alle persone. Quindi tocca a voi, partendo magari dal nome che vedo in lista, vedo in alto Carlo. Se vuoi dire Carlo, chi sei, una parola, che cosa fai, magari l'azienda, facciamo un giro di tavola rotonda, così ci conosciamo anche una piccola occasione di networking. Vai Carlo. Posso dire anche quello che è successo tra me e te qualche giorno fa? Sì, quello che preferisci. Niente di scandaloso. Niente, io sono Carlo Sacchi, sono un DevOps engineer anch'io, sono di base in Olanda, ad Amsterdam e insieme a Michele due giorni fa abbiamo pubblicato, io sono l'host del podcast Azure Italia Podcast e Michele ha fatto l'ospitata esattamente, la puntata che è uscita lunedì è appunto su Azure DevOps e Michele è stato il nostro relatore. Per il resto appunto, come ho detto, sono un Azure DevOps di base in Olanda. Grazie Carlo. Passiamo la parola a Bart, Bartolomeo. Ciao a tutti, Bartolomeo Lombardi e DevOps Architet per Tale Salina Space. Ok, dove sei in ufficio? A Roma, giusto? Roma, Roma, Roma. Sì, sì, sì. Va bene, Luigi, tocca a te. Ciao a tutti, io sono, come già ha detto, Michele il socio e abbiamo iniziato questa avventura da poco e anch'io, io provengo da una realtà manufatturiera di un'azienda che produce software manufatturiero e fondamentalmente nell'ultimo tempo ricoprivo la carica di CTO e ora invece ci occupiamo di pratiche DevOps e molto altro nel mondo dell'informatica come Limeware e SRL insieme a Michele. Sono qui come ascoltatore, diciamo. Grazie Luigi. Marco, a te. Io sono Marco Bernardi, lavoro in Engage Labs e ho avuto occasione di lavorare insieme a Michele per alcune cose quando prima dell'avventura di Langware e sono un dev e in azienda applichiamo o cerchiamo di applicare tutto quello che è già le DevOps e questa sera sono qui per ascoltare molto volentieri Michele. Benissimo, grazie Marco. Concludiamo con Daniele, collega di Bartolomeo. Ciao, io sono Daniele Morigi e anch'io sono un DevOps presso Tala e Salina Space insieme a Bartolomeo. Benissimo. Grazie Daniele. Si è aggiunto Francesco in questo istante. Ciao Francesco, benvenuto. Stavamo facendo un giro di tavola rotonda. Va bene, tu non puoi intervenire. Va bene così. Ci siamo un po' presentati, sei al lavoro. Perfetto. Se vuoi scriverci in una riga, in chat di cosa ti occupi e l'azienda in cui lavori così ti conosciamo. Prendiamo anche l'occasione per questo evento a numero ristretto per fare un pochino di networking. FS Technology. Aspetta. Ma Ferrovii dello Stato? Va bene. Forse ho intuito... Forse ho intuito chi sei. Va bene. Andiamo avanti. Allora, un tema ricorrente che c'è nel... Quando si fanno progetti di adozione cultura e pratiche DevOps che sento anche in giro quando faccio i corsi e così via è ma noi siamo diversi oppure ma da noi è difficile fare non si può fare noi non siamo in cloud e così via e vi racconto questo perché è una storia ricorrente e anche un'azienda che sto seguendo a nord di Roma su un corso di tre giorni di formazione di cultura e pratiche DevOps una delle prime obiezioni che mi viene fatta è ma noi siamo un ambito particolare da noi certe cose non si possono fare e quindi a me questa cosa diverte sempre perché ora della fine ne vengono fuori dopo una giornata fatta insieme che cambiano radicalmente idea certo non si può applicare tutto da tutte le parti però è sempre divertente come siamo spesso convinti che noi siamo unici e irripetibili e in effetti per certi aspetti lo siamo ma semplicemente non abbiamo avuto la possibilità il tempo di fermarsi e riflettere e di guardare le cose da un punto di vista diverso e quindi noi siamo diversi è un tema ricorrente e in questi casi a me piace tirare fuori una delle storie di successo del mondo DevOps è la storia del team di HP perché è quello dedicato ai firmware ok delle LaserJet e avevo capito ci conosciamo da Ader ciao Francesco ciao Francesco adesso ti ho inquadrato un piacere averti qua è una storia molto interessante perché di solito si sente parlare di tematiche di di DevOps in ambito cloud o dove c'è l'infrastructure as code dove c'è un Kubernetes di mezzo e così via ma raramente si sente parlare di pratiche DevOps su team su realtà che fanno qualcosa a così basso livello come potrebbe essere un driver un firmware eccetera e metto il link appunto c'è qui c'è qui sotto vediamo se riesco a copiarlo ecco esatto lo metto anche nella chat che potete andare a leggervi l'articolo nella sua interezza con calma di quello che era il direttore del dipartimento firma e dell'Asetet nel 2009 dove hanno stravolto la metodologia di lavoro praticamente la loro sfida erano un team di massimo 800 developer nel momento in cui sono stati di più che dovevano mantenere circa 10 milioni di righe di codice di firmware ed erano arrivati a un caso dove le loro statistiche loro stime interne dicevano che i developer passavano solo il 5% del tempo a realizzare nuove feature il resto era completamente dedicato a sistemare bug a rincorrere problemi a gestire conflitti di merge perché avevano una strategia di merging di branch e merging complessa e così via quindi è un caso molto interessante fuori da quello che si sente di solito se ce l'hanno fatta loro ce la può fare chiunque perché non è vero che devops si può fare solo in cloud eccetera ce l'hanno fatta loro con i firmware avevano ostacoli tecnologici ok dovevano provare stampanti cioè non è che dovevano provare una user interface in un browser dove le tecnologie ormai di magari test automatizzato le possiamo più immaginare o ce le le conosciamo sostanzialmente ma gli i test si tratta ora della fine di dover stampare ok di carta da dover macinare e quindi cosa hanno fatto sostanzialmente vi invito a leggere l'articolo però hanno cambiato il modo con cui gestivano i repository sono passati in una strategia trunk based development invece che fare una strategia di merge branch molto complessa si sono scritti dei simulatori di stampanti dei simulatori degli emulatori in maniera tale da non dover stampare fisicamente ma avere dei modi virtuali di verificare che le stampanti facessero quello che dovevano fare questi sono un pochino in tre anni i numeri che hanno raggiunto in particolare ci concentriamo qua sotto hanno fatto 5 per 8 40 hanno moltiplicato per 8 la capacità di innovazione cioè la capacità di development effettivamente di scrivere nuove feature ok e una cosa che io ci tengo e che verrà anche poi detta più avanti nel corso di questo incontro è lo sforzo che hanno hanno fatto cioè c'era un 15% di test manuale ok la stragrande maggior parte del test è stato automatizzato ne è rimasto un 5% manuale chi mi conosce lo sa io sono fissato con la piramide del testing dove la puntano o la nuvola che ci disegniamo sopra alla punta è il test manuale residuo una cosa che non ho detto e anzi mi farebbe molto piacere è che ovviamente se questo incontro non è un non diventa un monologo da parte mia ma è ovviamente intervento libero quindi se volete alzare la mano aprire il microfono intervenire raccontare dire un punto di vista vostro va benissimo io vi passo tranquillamente la parola appunto siamo qui in una stanza virtuale tra amici e ce la raccontiamo però appunto la promessa di questo webinar era practical devops quindi sentiamo parlare tanto di teoria come cosa possiamo fare di pratico effettivamente per cominciare a portare a casa questa cultura ed avere un qualcosa di tangibile da fare attivamente realmente invece anche parlarne e basta allora la prima cosa è essere consapevoli che andremo incontro a degli ostacoli quindi io qui parlo di consapevolezza quindi quando stiamo per fare una adozione di principi e pratiche devops dobbiamo essere consapevoli che incontreremo degli ostacoli gli ostacoli sono tipicamente di tre famiglie cultura c'è scritto attenzione agli assenti questo cosa significa significa che voi che siete qui probabilmente voi avete già una siete orientati a ragionare in un certo modo siete attenti a certe tematiche a vedere le cose da un certo punto di vista avete magari anche il il coraggio o la voglia di provare le cose in maniera diversa e nuova però gli assenti cioè quelli che non ci sono qui o quelli che nella vostra azienda magari non partecipano a determinati momenti di formazione conferenze e così via quelli restano sono un po' il problema perché non vengono contagiati da questa da questa cultura di sperimentazione di voler fare le cose in maniera diversa e quindi l'ostacolo culturale è sempre molto importante il si è sempre fatto così il ma noi qua si ragiona in questo modo ma noi siamo diversi eccetera ci sono poi questioni politiche essendo che andiamo a fare le cose in maniera diversa soprattutto in aziende medie o grandi con una certa struttura si potrebbero scoinvolgere degli equilibri perché alcuni ruoli o responsabilità o fare le cose in maniera diversa potrebbe scatenare problemi politici ad esempio una persona che è abituata ad accentrare un tecnico un tecnico magari senior molto importante che è abituato a fare lui e risolvere lui i problemi beh uno dei principi di DevOps secondo la terza via è quello di condividere l'informazione e di amplificarla di rendere trasparente e disponibile a tutti lui si potrebbe potrebbe cominciare a dire beh ma io qui non sono più importante perché quelle cose le sanno fare tutti non so più fare solo io e quindi io cosa ci sto qui a fare ci sono anche tematiche politiche di questo tipo infine ci sono gli ostacoli tecnologici non è per non è messo per ultimo a caso perché comunque gli ostacoli tecnologici magari dobbiamo imparare un tool un framework una libreria un qualcosa uno strumento è per ultimo però si è un ostacolo c'è una curva di apprendimento le nostre performance rallentano per un certo periodo ne dobbiamo essere consapevoli ma si tratta di tecnologia stiamo spostando il nostro focus dalle persone alla tecnologia non so se qualcuno di voi vuole intervenire ha un ragionamento che vuole condividere sugli ostacoli o su qualche esperienza che avete vissuto deve dire effettivamente sì questo mi torna potete sempre alzare la mano o intervenire direttamente aprendo il microfono che cosa dobbiamo fare quindi siamo consapevoli degli ostacoli incontreremo degli ostacoli però detto questo lo sappiamo ci prepariamo e andiamo avanti la prima cosa che dobbiamo fare è diffondere nella nostra realtà con i nostri compagni di team quello che vogliamo con i nostri colleghi che cosa significa DevOps e non c'è secondo me modo migliore di farlo che utilizzando la definizione di Donovan Brown che secondo me è la migliore definizione di DevOps esistente non esiste una definizione di DevOps scolpita nella pietra e questo è ci sono tante interpretazioni questa è quella di Donovan Brown e secondo me è la migliore la leggiamo all'alta voce mi piace tantissimo ogni volta la leggo unione di persone processi e strumenti per rilasciare valore più rapidamente agli utenti finali anche qui Donovan Brown ha fatto un lavoro eccellente in termini di non solo è una definizione molto breve è facile anche da imparare a memoria ma l'ordine delle degli oggetti diciamo persone processi e strumenti dei nomi ecco non è per niente a caso perché le persone sono la cosa più importante le aziende sono fatte di persone di interazioni tra persone e qui c'è anche un legame con il manifesto agile che è il primo principio persone interazioni tra persone rispetto a processi e strumenti ok poi abbiamo processi quindi va bene persone che lavorano insieme in un certo modo processi ci dicono come fare e alla fine di nuovo troviamo gli strumenti spesso si sente parlare di iniziative DevOps che partono dagli strumenti ok lo vediamo anche nel mercato del lavoro nella ricerca delle persone cerchiamo facciamo DevOps se siamo bravi con Kubernetes allora perché abbiamo adottato Kubernetes stiamo facendo DevOps in realtà stiamo procedendo al contrario stiamo adottando una tecnologia molto spesso magari non è la più adatta a noi o forse è troppo complessa per noi in questo momento avremo bisogno di qualcosa di più semplice eccetera la ributto lì di nuovo qualcuno di voi vuole condividere un ragionamento un'esperienza sul partire da uno strumento o sul concentrarsi sulle persone o meglio l'avevate già vista questa definizione vi suona familiare altrimenti io procedo vado avanti vado avanti un'altra cosa di cui dobbiamo essere consapevoli mi fate un pollice in su dai fatemi vedere che siete presenti in questo meeting che non sono da solo con dei nomi su un coso grazie Marco ottimo molto bene la prossima cosa che dobbiamo fare e quindi abbiamo detto ci sono degli ostacoli e me lo devo aspettare devo diffondere che cos'è DevOps ad un'altra cosa di cui devo essere consapevole è il conflitto cronico il conflitto cronico è questo lo leggiamo qui andiamo a vedere com'è un tipico business IT allora un tipico business in cui l'IT è coinvolto ok non è detto che stiamo parlando per forza di un concetto di una software house ma magari possiamo immaginare un'azienda che al suo interno ha un dipartimento IT più o meno grande che serve per contribuire al business ok quindi abbiamo un dipartimento IT che contribuisce al business ci dividiamo in due in due macro categorie leggiamo sopra abbiamo i developer che sono che devono rispondere ai cambiamenti urgenti di business e quindi devono completare il lavoro velocemente cioè quindi in genere il developer è pagato e incentivato e motivato a essere tra virgolette veloce da un'altra parte abbiamo i team di operation o esercizio che sono incaricati di mantenere in piedi un'infrastruttura che eroga appunto le funzionalità sviluppate dai team di development quindi operation deve fornire un ambiente di produzione stabile e in quanto operation proprio il loro insito nel loro DNA vogliono essere sempre sicuri vogliono essere sempre cauti e quindi generalmente tentano di rallentare le cose ma non perché sono cattivi perché proprio il loro obiettivo è quello di avere stabilità e quindi abbiamo il conflitto cronico qui in fondo abbiamo da una parte perché vogliono andare veloci dall'altra parte abbiamo operation che vogliono rallentare per essere sicuri che le cose vadano bene perché poi di notte vengono svegliati loro magari se i server vanno giù eccetera ok quindi dobbiamo essere consapevoli alla base di questo conflitto cronico e una parte veramente importante della metodologia della cultura DevOps è quella di smettere di lavorare in questa maniera ma ovviamente i developer continueranno a fare i developer operation a fare operation ma dobbiamo cambiare il modo in cui vengono incentivati e motivati non dobbiamo più incentivare i developer affinché siano veloci non dobbiamo più incentivare i developer affinché siano cauti e mantenere il servizio ma insieme se noi prendiamo questo dovrebbe essere la faccina di uno la faccina di un altro insieme si devono girare e guardare insieme al cliente ok non devono più guardare il loro orticello io sviluppo fitro l'altro io mantengo i piedi in server ma insieme siamo un team stiamo collaborando per erogare un servizio a un cliente se noi siamo motivati e anche incentivati aziendalmente a guardare il cliente questo conflitto cronico sparisce e nascono nuovi modi di interagire e di lavorare un'altra cosa che posso fare quindi praticamente già da domani sostanzialmente posso prendere un'attività pratica è utilizzare questo loop infinito che è composto da tre passaggi molto semplici è un derivato dalla teoria dei vincoli e che cos'è il primo passo è identificare all'interno dei nostri processi in azienda quello che è il punto più doloroso trovarlo dopo cosa facciamo lo analizziamo a fondo quindi magari non ci vuole neanche tanto tempo per trovarlo perché sappiamo tutti in realtà dove siamo inseriti la cosa che ci fa più male potrebbe essere un deployment potrebbe essere una pratica di sviluppo lo sappiamo più o meno dopo che siamo un po' in una certa realtà che cosa ci fa più male lo sappiamo lo analizziamo a fondo e cerchiamo di fare cosa di implementare qui c'è scritto la soluzione ma una cosa più corretta sarebbe stato scrivere il primo step migliorativo il più economico possibile economico sia in termini di tempo e anche sia in termini magari di se devo acquisire un tool una licenza un qualcosa cerco la soluzione più economica il primo step più economico possibile per portare a casa un miglioramento di quella situazione e poi vado avanti potrebbe essere che già quel piccolo step in avanti che ho fatto mi va a scoprire un nuovo vincolo un nuovo dolore non ho più dolore al piede ma ho dolore alla mano oppure quel dolore si è attenuato ma continua ad essere quindi di nuovo mi ci rimetto sopra e implemento un altro step il più economico possibile migliorativo c'è anche un altro modo di dirlo se una cosa fa male falla più spesso perché così ti costringe a falla in una maniera migliore e a ridurre i costi e il dolore e in questo modo è un po' la chiave di volta di tutto quanto dobbiamo essere sempre attenti e mantenere in tensione la nostra cultura aziendale cioè non dobbiamo mai a un certo punto dire adesso mi fermo perché se io mi fermo subentra l'entropia e l'entropia fa ritornare le cose come erano prima ok quindi un po' alla volta succede che le vecchie abitudini il vecchio modo di fare o le pratiche cominciano a degradare e quindi tenere in piedi un qualcuno un qualcosa che ci tiene sempre sull'attenti aiuta il sistema più o meno a non perlomeno a non degradare ma avere sempre un a rimanere così com'è o fare sempre dei piccoli passi vi ricordo che migliorare dell'1% ogni giorno dopo 70 giorni siamo il doppio più bravi per l'1% per l'1% per l'1% per 70 volte siamo il doppio più bravi quindi un piccolo miglioramento ogni giorno dove però posso guardare diciamo che siamo alle prime armi ok non ho mai interpreso una trasformazione devops non ho mai applicato principi devops in un certo modo e quindi ok avrò degli ostacoli ho spiegato che cosa significa devops bene c'è il conflitto cronico e ho questa disposizione questo tool questo ciclo infinito però non ho magari idee effettivamente da dove parto allora ecco qui che vi do alcune idee alcuni punti ricorrenti che nella mia esperienza ho incontrato da cui magari possiamo partire allora la prima è la cultura ok attenzioni a frasi come ma noi siamo diversi se qualcuno lo dice potrebbe essere già lì un punto dove prestare attenzione il mettere al centro le persone con un obiettivo comune ok quando si vede quando si cominciano a fare delle sessioni di brainstorming si mette in una stanza developer operation e si comincia a dire ok cominciamo a parlare dei problemi di quelle cose che vanno e non vanno si cominciano a vedere subito come interagiscono questi gruppi che sono concentrati nel proprio orticello invece lì ok si potrebbe dire cominciamo a lavorare insieme sul cliente altre cose che si possono verificare che si può andare ad indagare è la gestione del management qui si potrebbe parlare probabilmente una giornata intera però sostanzialmente DevOps portando dentro tante cose dalle filosofie orientali e giapponesi del management il management deve essere basato sulla fiducia quindi in particolare del pattern che si possono vedere o intravedere sono quelli del micromanagement cioè ci sono delle persone a cui piace avere il controllo molto specifico di quello che fanno gli altri potrebbe essere un PO o un PM che va a fare le pulci sull'attività di un developer oppure che sceglie lui no questa attività me la fa quel developer perché io mi fido eccetera tutte queste dinamiche dove c'è un controllo eccessivo potrebbe essere anche qui un punto dove andare in indagare il questione dei test automatici l'ho messo nella fase culturale perché per me sono proprio alla base di tutto se non abbiamo una filosofia un modo di approcciare i test sapendo che i test automatici sono effettivamente gli abilitatori all'agilità del business rimuovono la paura evitano riducono ok evitano quasi del tutto quindi le riducono le regressioni e così via se noi abbiamo un corretto e salutare approccio al test automatizzato allora possiamo veramente fare tante cose delle metodologie e pratiche devops perché se non siamo protetti da una corretta da un'adeguata rete di protezione di test possiamo raccontarcela come vogliamo ma gli sviluppi saranno sempre ingessati perché ho paura di modificare devo fare 7000 test a mano e così via quindi per me è una questione non tecnica ma culturale anche perché l'approccio al testing è costoso soprattutto nelle prime fasi dove devo imparare a progettare il codice in un certo modo con architetture disaccoppiate e così via e quindi devo avere la cultura che è un investimento sul medio o lungo termine ok e i benefici arriveranno un po' alla volta altre cose che io posso fare per praticamente per cominciare già da domani a dire sto facendo delle iniziative devops è mettermi lì con il mio team con i miei colleghi e analizzare il flusso del valore il flusso del valore in ambito manufatturiero viene definito da questa definizione cioè una sequenza di attività che un'organizzazione deve svolgere per soddisfare una richiesta cliente quindi da quando il cliente ci dice un qualcosa quali sono tutti quegli step che noi andiamo a fare affinché lui veda il suo desiderio realizzato analisi dei requisiti riunioni interni meeting sviluppo pull request continuous integration eccetera 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 queste sono tutte le pratiche tecniche anche che noi andiamo a fare come dire io vado in concessionario dall'Alpha e gli dico voglio una Giulia quadrifoglio dal momento in cui loro mettono l'ordine immettono l'ordine al sistema tutte le attività che fa Alfa Romeo per realizzarmi con la macchina è il loro flusso del valore quindi mettersi lì e renderlo visibile a livello macro fare degli un esercizio di visualizzazione con i propri colleghi e dire ma noi come le facciamo le cose da quando il cliente ci dice voglio questo com'è che ci muoviamo quali sono gli gli step che facciamo e li mettiamo in una bella lavagna e poi sarebbe ancora più bello una volta che li abbiamo compresi rappresentarli su una Kanban board di cui io sono un grande fan e potrei parlarvene per un'intera giornata investire in testing automatizzato quindi se da un punto di vista culturale anche lì una cosa che invece magari dal punto di vista della cultura in azienda sappiamo che sì i test automatizzati ci piacciono allora cominciamo a farli ok soprattutto c'è da diffondere il tema che i test manuali sono un'attività che non porta valore aggiunto e quindi rifugiarsi mi è capitato di sentirlo più di qualche volta il dire ma io mi proteggo perché faccio dei test manuali è un ragionamento mio perché sì in effetti in quel momento ti stai proteggendo ma magari quei test li sai fare solo tu se la nostra situazione la nostra realtà scala e cominciamo a non avere più una manciata di clienti ma ne abbiamo per dieci di come siamo adesso quei test manuali non ci stai dietro quindi un'altra cosa che io posso fare è guardare in azienda come siamo messi con il test automatizzato questo è uno dei miei punti preferiti spesso nelle mie sessioni di DevOps è una frase che io proietto che arriva da uno studio di Accelerate dai soliti guru del DevOps Nicole Jess e Jin Kim insomma sono il sono il solito team che ci fanno capire che le release dove ci sono i rilasci più dolorosi è un punto molto importante per capire come è messa l'azienda in termini di organizzazione e cultura del software quindi può essere una sorta di dicono nel mondo anglosassone rule of thumb quindi come facciamo così per sentire il vento un indicatore molto rapido per andare a capire se siamo maturi con le pratiche DevOps o meno entriamo in una realtà andiamo a vedere diciamo come fate le release ogni quanto le fate quanto ci impiega quanto è dolorosa per voi una release quanto vi costa e già lì si capisce molto perché la release essendo il processo la parte di processo più a valle di tutte è dove vengono tutti i nodi al pettine e si porta dietro tutto diciamo il debito tecnico di quelli che potrebbero essere decisioni tecniche o processi modo di lavorare più a sinistra arrivano tutti qui non ci sono sconti quando facciamo quando facciamo la release e quindi può essere un buon punto dove dire come faccio beh comincio guardando dalla release magari lì scopro qualcosa un'altra cosa dove io posso intervenire e applicare subito dei miglioramenti è quella tematica ci ho fatto anche una sessione anni fa a Roma dedicata su questo le avevo intitolate a gestire più o meno gestire il caos cioè sappiamo nella nostra quotidianità che il lavoro arriva da tutte le parti in varie forme sotto forma di bug sotto forma di un collega che mi racconta qualcosa al telefono un'email di un cliente le forme in cui arriva il lavoro da fare sono le più varie e creare in azienda un unico quello che io chiamo centro di verità è un passo estremamente importante dove il lavoro non è gestito con le email ma tipicamente ormai li conosciamo tutti sono tool come Jira GitLab GitHub H2O DevOps che mettono a disposizione delle funzionalità di tracking ognuno ha un po' le sue terminologie c'è chi li chiama issue c'è chi li chiama work item eccetera dove andiamo a dare una struttura andiamo a dare un raccoglietore un secchiello per dirlo in maniera molto aggresa di tutto quello che c'è da fare e lì dentro cominciamo a creare delle regole aziendali su come catalogare il lavoro come trovarlo ci diamo delle regole in maniera tale che sia disponibile a tutti e lo possiamo consultare tutti quanti in un solo punto e non quindi magari nelle email o negli appunti sparsi dei PM che parlano con i clienti raccolgono i requisiti una cosa molto interessante che l'ho messa l'ho messa perché perché se voi andate a vedere ogni anno l'associazione Dora è penso il leader al mondo come associazione dedicata a fare studi di adozione fa lo stato dell'arte diciamo mondiale sull'adozione di pratica e cultura DevOps dietro c'è Google che finanzia questa associazione ormai sono al sesto settimo report che fanno mi pare siano partiti nel 2016 forse qualcosa di più sperimentale ancora prima ho messo comunque i link e li copio e li copio di nuovo qua vediamo se riesco a togliere eccolo qui e faccio copy link potete andare a vedere quello che hanno pubblicato poco fa del 2023 c'era una cosa hanno messo proprio in evidenza la condivisione della conoscenza tramite la documentazione è proprio tra i top 5 rilevamenti punti chiave che hanno evidenziato nel report del 2023 perché una buona documentazione porta non solo a vantaggi magari di riduzione di costi diretti perché ci metto meno a sviluppare eccetera ma in generale come valore qualitativo migliora la qualità del lavoro migliorano la condivisione della conoscenza in team ha un impatto molto ampio e quindi posso andare nella mia realtà o in un'azienda e dire come state strutturando la vostra condivisione della conoscenza come gestite le wiki i requisiti dove li scrivete i post mortem avete un template per fare i post mortem quando succede un problema in produzione eccetera eccetera quindi anche la condivisione della conoscenza terza via di devops è un punto dove io posso partire domani e cominciare a fare delle indagini e migliorare altra cosa che io posso fare in modo pratico non andare alla cieca sappiamo che il seconda via di devops ci parla di telemetria o meglio ci parla di feedback per non andare ovviamente alla cieca cioè noi dobbiamo sapere che cosa sta succedendo in genere quando si parla di superficialmente o di primo achitto della seconda via di devops in termini di feedback si parla di telemetria e si pensa subito alla parte infrastrutturale cioè come stanno andando lo stato di salute magari di i miei server della mia infrastruttura di rete quindi come sono messo a utilizzo della banda saturazione della banda quanta CPU ho in questo momento impiegata quanta memoria libera e così via e questa è la prima a cui si pensa ed è si fa da una vita ed è necessaria però possiamo ulteriormente evolvere e andare a inserire della telemetria su cosa? Sul business allora intanto mettiamoci d'accordo su che cos'è telemetria quindi la telemetria sono degli strumenti tecnologici che ci permettono di raccogliere dei dati da dei punti remoti e trasmetterli tramite dei canali di comunicazione in un punto di raccolta centralizzato questa definizione è abbastanza generica si può applicare ovunque lo possiamo pensare alle formula 1 che girano in tondo in un circuito e hanno tutti i loro sensori a bordo che mandano le informazioni ai box riguardo la temperatura delle gomme dei freni eccetera eccetera la stessa la stessa definizione si può applicare nello stesso modo in un ambiente IT dove abbiamo i server o abbiamo che da qualche parte prendono con degli agent a bordo e mandano in un punto centralizzato in piattaforme più o meno evolute strutturate application insight azure monitor splank non lo so ditela voi mandano dei dati per raccogliere log stato di salute eccetera eccetera per esempio un cluster kubernetes iprobe che ogni tanto vanno a fare dei polling sui punti che noi andiamo sugli url che noi andiamo a dire di alt check per sapere se il servizio è disponibile se risponde e così via quindi questa telemetria telemetria di business sono quelle metriche che noi possiamo raccogliere che ci raccontano come sta andando la nostra soluzione in termini di servizi al business esempio che siccome qui ci sono presenti persone con magari estrazione o aziende industrie diverse l'ambito e-commerce ci mette d'accordo tutti una tipica metrica di business potrebbe essere quanti check out sto facendo al giorno minuto ora secondo o quello che voglio e quindi vedo magari i miei server stanno andando bene sono in salute ma i miei check out i pagamenti che sto effettivamente facendo tramite la mia piattaforma gli incassi che sto facendo tramite piattaforma sono a zero e potrebbe esserci un problema o ce ne sono molti meno oppure ce ne sono molti di più come risultato di un test a b che mi ha portato delle nuove funzionalità e effettivamente queste nuove funzionalità permettono agli utenti di spendere di più cose del genere infine anche di processo cioè io non devo andare alla cieca sui miei processi aziendali interni sulle mie pratiche devops e quindi devo sapere quanto tempo ci metto a rispondere a un'esigenza cliente il lead time o il cycle time ok oppure le mie pipeline quanto veloci sono quanto ci metto a compilare quanto ci metto a eseguire i miei test e soprattutto quanto ci metto a sapere se i test sono verdi o rossi e così via quindi non andare non andiamo alla cieca ma mettiamo accendiamo i fanali e facciamo luce dove abbiamo le ombre dove non vediamo dove non sappiamo che cosa sta succedendo un altro punto dove possiamo andare a vedere è la gestione dei repository ci può essere l'abbiamo già accennato un po' con il discorso dell'HP dove avevano delle strategie di branching molto fantasiose e complicate dovremmo cercare di tendere a una strategia di branching di gestione dei repository il più semplice possibile trunk based development è pieno di ricerca e documentazione a riguardo come sia il modello non dico perfetto per tutti ma che porta che porta parecchi vantaggi al netto però di riuscire a fare uno shift left su tante pratiche decisamente importante perché se noi andiamo a dire che su trunk o su master o su main chiamiamolo come vogliamo abbiamo del codice sempre pronto per essere rilasciato dobbiamo anticipare tante problematiche quindi i controlli di qualità i più automatici a sinistra possibile i controlli sulla sicurezza tutte tematiche devs e coops e così via e infine l'adozione delle pull request le pull request possono fare veramente la differenza quando io perché sono un momento molto importante di confronto tra developer per avere un occhio esterno o più occhi esterni nel momento in cui io finisco alzo la mano e dico ho finito un'implementazione avere una revisione tra pari con tutte le best practice che non deve essere troppo grande non ci deve non deve esserci troppe modifiche dentro eccetera 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 comunque una buona una pull request sana è fondamentale per mantenere la qualità dei sorgenti infine adottiamo una piattaforma devops ok magari siamo veramente ai primi passi e dobbiamo dire ok io voglio fare un'iniziativa comprendo le pratiche comprendo le tecniche ma sono a piedi guardiamo sul mercato e adottiamo una piattaforma devops dove non c'è questa era abbastanza banale siamo in conclusione siamo in conclusione andiamo infine abbiamo iniziato preparandoci essendo consapevoli che incontreremo degli ostacoli ritorniamo un po' su quel tema cominciamo a chiudere il cerchio andando a dire che dobbiamo prepararci a rallentare ok cosa succede che quando introduciamo una trasformazione piccola o grande che essa sia abbiamo sempre una curva di apprendimento che all'inizio farà calare le performance per esempio qui in questo studio di google cosa vediamo vediamo che potrebbe essere che i team che portano iniziano una trasformazione devops cominciano e portano a casa magari quelle cose più più facili da fare poi un po' alla volta cominciano ad approcciare tematiche di automazione un po' più pesante ok e quindi abbiamo un ulteriore passo in avanti e quindi un attimo un po' di miglioramento però poi cosa succede che potremmo avere un degrado perché per esempio l'automazione richiede uno sforzo sui test un investimento sui test e quindi ecco che qui abbiamo il degrado perché devo imparare a scrivere i test magari la mia code base non è testabile la devo rifare e così via poi comincio a dover aggredire del debito tecnico quindi mano a mano che io faccio una trasformazione mi devo aspettare che all'inizio rallenti poi lo so correrò ma all'inizio devo essere consapevole non è tutto rose e fiori ora io ho parlato parecchio siamo in chiusura però se tutto questo ti sembra ovviamente troppo perché lo posso immaginare ci sono ci sono tante cose c'è un c'è un bonus point secondo me è un fattore un fattore chiave nell'adozione di una pratica devops e potrebbe essere che voi potete essere guidati magari non essere da soli e quindi dotarsi di un partner che ci possa guidare nel cambiamento per esempio ne conosco uno si chiama Limeware guida le aziende in fare adozioni e trasformazioni di cultura devops e nel frattempo tra una cosa e l'altra fa anche sviluppa e progetta applicazioni mobile e web detto questo detto questo sto per ora ora tocca a voi nel senso che è il momento di agire questa sera magari a cena o dopo la doccia riflettete su quello che ci siamo detti su quello che abbiamo condiviso e vi lascio con queste se volete questa piccola challenge ok questa sfida da portare a casa vi do tre azioni di nuovo si chiama practical devops dobbiamo fare qualcosa di pratico e non parlare e basta quindi se vogliamo fare un qualcosa di concreto prima cosa entro una settimana fissate un meeting per identificare un punto doloroso che volete risolvere nel vostro contesto con i vostri colleghi nel vostro team quello che per voi è più pertinente identificate il punto doloroso più doloroso quello che vi da potrebbe darvi il più valore se viene risolto se venisse risolto qui magari anche un po' di buonsenso nel senso che buonsenso nel senso che potreste trovare quell'attività magari non troppo difficile non troppo mission critical a seconda del vostro livello di maturità doveste scegliere l'attività magari anche non troppo rischiosa che però può essere un buon esperimento dove provare a fare qualcosa di diverso e infine terzo punto importantissimo pianificare l'implementazione del primo step migliorativo non uscite da questo meeting se non avete pianificato ok quel giorno faremo questo oppure entro quel giorno entro questa data faremo e quindi a voi questo compito per casa questa challenge di una settimana a questo punto io vi ringrazio tutti per essere stati qui se avete voglia e tempo ovviamente commenti domande aprite pure il microfono abbiamo 5-10 minuti per stare ulteriormente insieme se ne avete piacere però quello che vi invito a fare con il vostro smartphone è di prendere di scansionare adesso lo provo perché effettivamente non l'ho provato ma dovrebbe essere a posto di scansionare questo QR code che vi porta su un form dove c'è una e una sola domanda obbligatoria ce n'è anche una diciamo facoltativa ci sono 5 stelline da dare da 1 a 5 il valore percepito dal lato vostro su questo webinar il tempo che avete speso qui se ne è valsa la pena se ne è valsa molto la pena sono 5 stelle se ne è valsa un po' meno la pena sono 4 se cavolo potevo proprio farne a meno metto una stella ok quindi più stelle più alto è il valore percepito infine la seconda se volete lasciare un commento libero ben venga bene io vi ringrazio a tutti per essere stati qui e ci ribecchiamo online grazie Michele volete qualche commento o qualcosa volete condividere qualcosa se no alla prossima